Buonasera a tutti, io sono il tanto amato presidente del cazzo e sono qui per farvi un importante annuncio di merda, cari cittadini della minchia della vostra nondina. Sabato 28 gennaio 2012 a Montesiro, frazione di Besana in Brianza in via Cimabue, 16, al Face Music Bar suoneranno i Drain Brain, sarà un concerto imperdibile. Vi invito ad andare a sentirli e vi invito a seguire questo gruppo di sola buona musica anche nelle date successive, quindi consentitemi di sponsorizzarli e di ricordarvi di non mancare. Ore 22 del 28 gennaio Drain Brain in concerto in occasione dello School Concert. Fakiea. Fakiea.